Si è svolto presso il carcere di Arezzo all'interrogatorio di garanzia per Lorenzo Franceschi, il 50enne di Arezzo militante di Forza Nuova, arrestato per quanto accaduto nella sede della CGL di Roma. Nella sede della CGL sono entrato per curiosità, sono comunque intervenuto per dissuadere il corteo a dirigersi verso Corso d'Italia e deviarlo affinché non raggiungesse gli uffici del sindacato. Così ha detto Franceschi davanti al GIP rispondendo alle domande del PM Gian Federica Dito nel corso dell'interrogatorio che si è svolto in videoconferenza. Accusato di devastazione aggravata e resistenza per l'assalto alla sede della CGL avvenuto lo scorso 9 ottobre a Roma, il leader arettino di Forza Nuova, assistito dall'avvocato Mario Giancaspro, ha dato una sua versione dei fatti. Pur confermando la sua presenza alla manifestazione, spiega l'avvocato raggiunto telefonicamente dalla nostra redazione, ha precisato che i fatti non sono andati così come sono stati ricostruiti e ha ridimensionato in larga parte la sua condotta. Franceschi avrebbe negato di aver colpito con l'asta della bandiera i poliziotti e di aver rotto la vetrata della sede della CGL.